buonasera a tutti ciao a tutti mi sto preparando per uscire con pamela la mia ex compagna di scuola perché l'ho invitata a una cena romantica devo dire che ho scelto un posto veramente di classe perché mi ricordo che in classe quando ero ragazzino lei era veramente una ragazzina di classe adesso è diventata una donna di classe e quindi la porterò in un bel posto ceneremo a lume di candela e vedremo come si evolverà la cosa perché devo dire che mi trasmette molto pathos mi trasmette molte emozioni e quindi ho voluto concederci questo questo revival questo incontro dopo tanti anni e adesso so che è diventata una donna bellissima per cui vedremo cosa cosa accadrà lo scoprirete nelle prossime puntate della telenovela giochi in amore seguiteci ciao a tutti